Ciao ragazzi bentornati a una puntata di Ride with Frank, io sono Francesco, oggi ce ne andremo in esplorazione nella provincia sempre di Sernia Ho trovato delle tracce, vediamo se sono aperte Ok, iniziamo subito ragazzi Speriamo che non siano zone chiuse Ecco subito lo sterrato Oggi ragazzi vi porto in esplorazione con me Vediamo cosa ne esce Allora noi ci dobbiamo avvicinare verso una montagna Ok, senti come va Allora, vediamo un po', io mi devo dirigere Ok, che sto andando bene Andiamo un po' Oggi vi sento un po' la ruota di dietro ballerina Vorrei fare una puntata dove vi faccio sentire i suoni senza accompagnamento musicale Proprio per farvi Vivere con me il giro Allora qui Mi da asfaltato Spero di aver preso bene, sì Allora, là stanno accendendo un fuoco Spero che mi sentite bene Perché ho la visita aperta che fa Oggi fa estremamente caldo Spendiamo la freccia che è meglio No, vabbè, posso andare, posso procedere C'è un po' di fumo Vediamo un fuoco Wow Wow Qui diventa più divertente Allora Che spettacolo Ok, dobbiamo andare dritto Usiamoci in piedi Ok, questi sono Tratti un po' scivolosi Allora Sul cemento ci riposiamo Ah, giro edo Non è un po' hard Ma Ok Bel salitone Vediamo un po' Ci sono un paio di curvette Ok, ci proviamo, dai Beh, basta Ah, come è bella scivolosa ragazzi Il TRK sale Il TRK sale Non è un po' hard Non è un po' Death Sì Allora, adventure proprio. Ok, bello aggressivo. Chissà se posso salire incontro una persona. Adesso chiediamo. Salve. Ma è possibile proseguire qua? Ah, non esce? Ah, perché a me mi dava che usciva dall'altra parte della montagna. Ok. Ho capito. Ah, perché avevo fatto tutto un percorso che mi collegava con le paleoliche di Longano. Eh, giusto. E invece non esce. Ho capito. Va bene. A vederci. Ok. Brutta notizia. Pare che la strada sia interrotta purtroppo. Noi sappiamo finché ce la facciamo. E male che vada, torniamo indietro. A noi ci piace l'avventura. Ok. Ok. Qua. Societiamo con prudenza. E un po' è già diventata più complessa. In questi momenti è meglio non farlo spegnere. spero solo che poi ci sia posto per girare. Questa è bella fesa. Questa è bella fesa. Qua. non bisogna fermarsi. Ok. Un tratto bastardo. Questa è bella ignoranza. Troviamo a vedere. Allora. Ok. L'abbiamo superato. Ok. Ok. Ci siamo. Ok. Qua riposiamoci. Deve seguiti le braccia. Sì. Uh. Ok. 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 Il percorso si sta stringendo un po'. Questa cosa non mi piace molto. non fermarti rami di m***** no ok siamo bloccati devo fare giusto pezzettino ok allora ripaciamoci un attimo sono capitato un tratto un po' bastardo devo tornare un filo indietro ok no da così non riparto secondo me ok ok ragazzi se riuscisse a riportarla la pendenza è allucinante ora sarebbe una vita rimetterla dritta ora devo tornare un po' indietro per poterla parcheggiare ancora un po' ragazzi sto in una situazione un po' critica la salita è bella ripida e sono capitato nello scolo dell'acqua come potete vedere quindi ho tutti i sassi smossi e scivolosi ora devo provare a tirare fuori la mano da questa situazione credo che girerò e tornerò indietro purtroppo l'esplorazione da solo comporta anche questi rischi ma non dimordiamo dai io io non 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 questo è Grazie a tutti. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok, fin l'alto. Ok ragazzi, siamo quasi partiti. Ok ragazzi, questi fanno un male i cani. Fino in un occhio. E' veramente molto appeso. Non devo prendere troppa velocità perché la TRK pesa l'accidente. E soprattutto non devo andare a fine nei fossi. Ma fa parte del gioco anche questo. Se fosse tutto semplice, che divertimento sarebbe? Ok, qua mettiamoci in piedi. Ok. 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 un'avventura Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Molto vicido. Ah... 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 Ok, qui diventa un po' sporco. Ah... Qua si regaliccia un po'. Ok, ok... Ragazzi... Sono morto, devo dire la verità. Ho preferito tornare indietro in quanto da solo, se fosse peggiorata la situazione, sarebbe stato un po' un guaio. Comunque... Wow, 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 wow. Ok... Il cemento... È la mia pausa sulle braccia. Ragazzi, non so se sentite come scivola la ruota. È abbastanza appeso, cioè non me l'aspettavo, pensavo fosse più dolce la salita e invece no. Poi ci sono dei bei ciò... Poi ci sono dei bei ciottoloni di quelli, proprio quei bei ciottoloni che le ruote 19 gli piacciono un sacco. Ok... Ragazzi, non tutte le ciambelle escono con il buco. Troppo... A volte... C'è anche la possibilità di non riuscire a chiudere un giro. Questa è una puntata un po' tipica. Spero che il video comunque vi sia piaciuto. Se sì, vi invito ad iscrivervi, a lasciare un like, a un bel pollicione verso l'alto e a commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, delle vostre impressioni. E iscrivetevi ai miei social, Instagram, Facebook... Con questo è tutto, ragazzi. Come sempre, io sono Francesco e voi siete su Ride with Frank. Yo! Woo!